signori adesso vi faccio vedere dove, beh già si vede penso, dove mi sono messo ha parcheggiato la moto qui lì c'è la tenda non so se mi fessi si vede questo è lo sterrato che farò domani mattina è cala non è male questo è il sentiero questo è il sentiero per andare sulla tenda guardate dove l'ho messa sulla roccia su questo piano sulla roccia non è male no eh sì è anche per stare lontano da non so da qualsiasi animale più che altro magari cinghiali che ne so quello che c'è insomma mi sento più sicuro qua sopra quindi quindi va bene assolutamente va bene che cazzo è questa cosa ciao